Sì, ho lasciato tanto alle mie spalle, la mia famiglia, lo zoo, l'India, Anandì. Io penso che alla fine tutta la vita non sia altro che un atto di separazione. Ma la cosa che crea più dolore è non prendersi un momento per un giusto addio. Non ho potuto ringraziare mio padre per tutte le cose che ho imparato, né dirgli che senza le sue lezioni non sarei mai sopravvissuto. Sì, Richard Parker è una tigre, ma avrei tanto voluto dirgli, è finita, siamo sopravvissuti. Grazie per avermi salvato la vita, ti voglio bene, Richard Parker. Sarei sempre dentro il mio cuore. Che il Signore sia con te. Che il Signore sia con te.